Poc'anzi è stato detto da un collega del PD, in questo caso Roberto Speranza, rivolgendosi al Movimento 5 Stelle, la parola amici. Ecco, siccome io questa parola pronunciata dal collega e da questa gente la ritengo offensiva nei miei confronti e nei nostri confronti, quindi tendo a chiarire semplicemente che noi, e con forza, che noi non siamo minimamente amici di coloro che hanno creato i problemi che ora cercano di risolvere. Colleghi, per favore, colleghi. Quello che hanno portato negli ultimi 30 anni alla distruzione di questo paese, noi non siamo amici vostri. Colleghi, per favore, lasciatelo finire. Doninelli ha chiarito benissimo che noi siamo all'opposto, quindi non siamo vostri amici.